Allora un altro dei trofei Non ricordo se questo sia un trofeo nascosto o meno Consiste nel entrare nel corpo di uno di questi robottini E per 50 volte Distruggerli Tramite appunto l'uso degli stessi robottini Una volta ne avete usciti 50 così Ottenete il trofeo Potete usare ogni tipo di macchina Riesce a controllarle praticamente tutte L'importante è che esse non vi abbiano già selezionato come nemico Se siete in fase nemico non funziona La che è raggio ma andrà direttamente in formato attacco Fine, ciao